cari figli oggi desidero ringraziarvi per la vostra perseveranza e invitarvi ad aprirvi alla preghiera profonda figlioli la preghiera è il cuore della fede e della speranza nella vita eterna perciò pregate col cuore fino a che il vostro cuore canti con gratitudine a dio creatore che vi ha dato la vita figlioli io sono con voi e vi porto la mia benedizione materna della pace grazie per aver risposto alla mia chiamata festeggiando insieme il trentaseiesimo anniversario delle apparizioni della regina della pace vi saluto e vi abbraccio con gratitudine la vostra piccola matita nel cuore